Una delle massime più note nella storia del pensiero umano è conosci te stesso, gnosi tauton, scusate non ho studiato greco ma ci siamo capiti, campeggiava sul tempio di Delfi nell'antica Grecia e ancora oggi discutiamo della sua validità e a quanto pare questo conosci te stesso è ancora validissimo ed è alla base di tutta la nostra realizzazione personale. Tuttavia negli ultimi tempi è stato messo in discussione ma è davvero possibile conoscere se stessi? Oggi vedremo che cosa si intende nella psicologia e nella crescita personale per conoscere se stessi. Ciao a tutti da Gennaro Romagnoli psicologo psicoterapeuta benvenuti o bentornati sul mio canale oggi parliamo di una questione davvero fondamentale conoscere noi stessi è davvero possibile conoscere noi stessi. Dall'antica Grecia dall'antica filosofia ad oggi abbiamo questa massima ed effettivamente anche molto intuibile una persona che non si conosca che non conosca i propri difetti mettiamo un tuo amico una tua amica che ha un volume della voce altissimo ma di cui non se ne rende conto ecco di certo sarà un comunicatore o una comunicatrice leggermente meno efficace non solo potrebbe andare incontro a diverse problematiche soprattutto nel momento in cui si renda conto che la sua voce è troppo elevata rispetto al contesto. Tutti quanti abbiamo nella mente esempi piccoli o grandi di inconsapevolezza e allo stesso tempo sono qui a dirti che tutti quanti abbiamo aree della nostra vita di inconsapevolezza. Non so se hai mai visto la finestra di Ohari che è una tecnica psicologica nelle organizzazioni che ci dice che all'interno della nostra personalità abbiamo la parte di noi che conosciamo, la parte che conosciamo e che conoscono gli altri, la parte che gli altri conoscono di noi e che noi non conosciamo, le parti che non conosciamo né noi né gli altri e appunto abbiamo un punto nel quale non conosciamo e questo lo sappiamo. Sappiamo che da un lato noi conosciamo delle cose di noi stessi che gli altri non conoscono e sappiamo anche che gli altri conoscono delle cose di noi che noi non conosciamo. Sì, hai capito bene, cioè in altre parole gli altri conoscono dei nostri difetti e a volte anche dei punti di forza che noi non prendiamo assolutamente in considerazione. Ora se noi prendiamo lo sviluppo di un individuo all'interno della propria vita possiamo immaginare che tutta la maturazione di un bambino che crescendo diventa adolescente, poi adulto e poi piano piano trascorre tutta la sua esistenza sia proprio caratterizzato da un aumento progressivo della consapevolezza su se stesso. Cosa si intende? Che ovviamente un sedicenne non ha consapevolezza piena del proprio funzionamento, un 26enne dovrebbe averne una maggiore rispetto a un sedicenne, un 36enne ancora di più, un 46enne come nel mio caso ancora di più e avanti così finché ovviamente rientra la vecchiaia, la senilità che ci fa funzionare un po' peggio e ci dovrebbe far conoscere noi stessi un po' peggio. Ora il problema è questo, moltissime persone dicono è inutile che cerchi di conoscere te stesso perché nel momento in cui inizi a cercare di afferrare questa essenza di che cosa tu sia, ecco che in realtà sei già cambiato, sei già cambiata, perché noi siamo dei processi in divenire e fin qua siamo pienamente d'accordo. Ogni volta che tu definisci te stesso, te stessa, anche con dei concetti squisitamente psicologici di temperamento, non so sono una persona attiva, sono una persona proattiva, una persona reattiva, sono una persona che va verso, che va via, sono una persona estroversa o introversa. Sappiamo che in realtà anche i tratti più solidi, come ad esempio quelli del Big Five, in realtà tendono a modificarsi con l'andare dell'età, perché chiaramente la nostra personalità o quegli insieme di tratti che la caratterizzano non è qualcosa di scritto nella roccia, è sicuramente qualcosa che hai scritto nel passato e che continua a riscrivere ogni giorno, è come un romanzo che ogni giorno viene aggiornato con nuovi elementi e anche se questi elementi sono piccoli, non ce ne accorgiamo, elemento dopo elemento potrebbero modificare completamente la narrazione dell'intero romanzo. Facciamo un esempio, immagina di esserti da sempre considerata una persona poco poraggiosa, perché magari da bambino non volevi tuffarti per primo dal trampolino, da bambino non scavalcavi il cancello per recuperare il pallone perché era troppo alto, eccetera eccetera. Poi però nel corso della vita hai, non lo so, frequentato un'accademia aeronautica e oggi guidi dei cavolo di caccia che fanno 2000 chilometri all'ora al pelo dall'acqua. Ecco come potremmo dire che quella persona è ancora quel bambino pauroso, non potremmo più dirlo, anche se magari non ti tuffi dal trampolino. Sì, hai capito bene, io conosco persone che guidano dei caccia da guerra e hanno delle piccole paure specifiche, come ad esempio la paura dei serpenti, ma questo fa di loro delle persone non coraggiose. Quello che voglio dirti è che la nostra personalità è come un prisma e dal lato dalla quale la vediamo mette in risalto una parte e ne nasconde un'altra. In altre parole, se prendiamo la vita di questo immaginario pilota, se guardiamo la sua vita oggi, vediamo che è super coraggioso, guida i caccia, eccetera. Se la guardassimo dal punto di vista di un adolescente, quando era adolescente, lo vedremmo magari un po' spaventato rispetto ai suoi coetanei. Ecco, in realtà nessuna di queste parti lo rappresenta al 100%, per capirlo al 100% dovremmo continuare a girarlo. Tuttavia ogni sfaccettatura, ogni piccolo capitolo che scrivi nella tua vita contribuisce a questo enorme prisma, che nel tempo diventerà, diciamo così, un prisma con talmente tante sfaccettature da non riuscire più a comprendere, tra virgolette, se esista o meno un'essenza. Questa faccenda l'abbiamo già vista parlando di molti fenomeni psicologici, i quali sembrano assomigliare più ad un arcobaleno che ad un evento specifico che possiamo raggiungere. L'arcobaleno è un effetto ottico, tra virgolette, più ci avviciniamo all'arcobaleno e più si dissolve, più e meno riusciamo a vederlo, più ci avviciniamo, più scopriamo che non possiamo trovare l'essenza specifica dell'arcobaleno. Perché? Perché anche l'arcobaleno è un processo, non è un'illusione, è un processo di rifrazione della luce. Così come le valutazioni che dai a te stesso o a te stessa sono dei processi di rifrazione della tua consapevolezza in quel preciso momento di chi sei e di che cosa hai fatto. Quindi conoscere noi stessi non serve a niente perché se indaghi te stesso in realtà ti etichetti, no, se inizi a vederti come un processo in movimento, no. Se inizi a vedere ogni tua presa di consapevolezza su come ti comporti, sui tuoi limiti, sui tuoi pregi, sui tuoi punti di forza eccetera eccetera, non come un qualcosa di scritto sulla roccia, ma come un piccolo contributo che dai al tuo mondo. Ogni volta che riesci a capire un tuo atteggiamento, una tua tendenza, un tuo pattern di comportamento, in realtà ci stai già lavorando sopra. Una persona che non si renda conto di avere un tono della voce, per usare l'esempio dell'inizio del video, troppo alto, troppo squillante o troppo basso, che non si sente, e ne conosco diverse, probabilmente le conosci anche tu, che non si accorga di questo, non riuscirà mai a migliorarlo. Invece una persona che venga più volte redarguita, magari dal partner, in modo gentile e simpatico, che gli dica, guarda che il tuo tono di voce è un po' alto per piacere, abbassalo, oppure puoi farmi una cortesia, alzalo un po', nel momento in cui si diventa più consapevoli, ecco che possiamo fare quei piccoli passi per iniziare a migliorarci. Viceversa, se invece iniziamo a pensare, ma tanto è inutile conoscere noi stessi, tanto siamo degli oggetti indefiniti, non è vero che io sono così o sono cosà, pure al contrario, iniziamo a pensare se un uomo nasce quadrato, non può morire rotondo, ecco che inizieremo a, diciamo così, a vederci in una forma statica, e questa forma statica non solo ci impedisce di aggiornarci, cioè ti impedisce di abbassare il tono di voce o di alzare il tono di voce, ma ti influenza al punto tale da farti tornare nella forma statica. Cosa significa? Torniamo al nostro pilota di caccia, che ti devo dire la verità, io lo conosco per davvero, ok? Diciamo così, ho un vecchio cliente che da giovane era considerato uno dei più spaventosi, più paurosi del proprio gruppo e da adulto guida degli aerei che vanno a Mach 3, cioè che vanno tre volte la velocità del suono. Ecco, immagina se questa persona, questo ragazzo, si fosse legato completamente all'immagine che gli hanno dato in adolescenza. Penserebbe di essere un codardo, una persona che ha paura di tutto, anzi che ha talmente paura di tutto che probabilmente non si sarebbe neanche iscritto all'Accademia Aeronautica, o se l'avesse fatto non avrebbe mai osato poi guidare delle cose così pericolose. Cioè, in realtà, conoscere noi stessi è una cosa fondamentale che dobbiamo continuare a fare, però dobbiamo ricordarci che questa capacità di conoscere è molto limitata, è limitata a semplici fotografie di quel momento e non possiamo creare, tra virgolette, un film completo della nostra esistenza. Pertanto saremo sempre un po' ciechi, quella finestra cieca di Joari che ti dicevo, saremo sempre un po' ciechi alle nostre caratteristiche ed è per questo che è utile farci aiutare per conoscere noi stessi, discutere con le persone che abbiamo accanto. Chiedi a tua moglie, a tuo marito, ai tuoi amici di farti dire quali sono i tuoi cinque punti di forza, quali sono i tuoi cinque difetti. Puoi fare davvero questo esercizio, chiedilo a cinque tuoi amici, chiedili di scriverti e di descriverti in cinque punti di forza, cinque punti di debolezza, anche tre e tre se sono troppi cinque, e poi confrontali e scoprirai quasi sicuramente qualcosa di nuovo su te stessa o su te stesso. Nel momento in cui lo scopri, evita di abbatterti, l'hai fatto apposta, solo in questo modo potrai iniziare a lavorare proprio su quegli aspetti. Un altro modo per conoscere noi stessi, probabilmente nel modo più profondo che ci sia, forse ancora di più di chiedere agli altri in generale, è la pratica della meditazione di consapevolezza. Quando meditiamo nelle nostre pratiche di consapevolezza è come se diventassimo spettatori di tutti i nostri pattern di pensiero, di tutti i nostri modi con i quali ci appelliamo, ci chiamiamo, ci giudichiamo, e quindi immaginiamo il nostro pilota mentre sta meditando e inizia a pensare, eh certo però anche se guido a 3000 all'ora, in realtà non mi so ancora tuffare da un trampolino di tre metri, sono ancora quel ragazzino pauroso, ma no non è vero dai, metti da parte il pensiero e torni nel momento presente. Il meccanismo che ti ho appena raccontato, cioè di farmi attraversare dei pensieri, è qualcosa di molto frequente all'interno della meditazione. La gente crede che meditare significhi non avere pensieri, no, meditare significa cercare di restare nel presente ed essere consapevole di tutta l'esperienza interiore momento per momento. E dato che la nostra esperienza interiore sono un insieme di narrazioni su chi siamo, la nostra memoria autobiografica che continua a raccontare chi siamo, o la default mode network per i neuroscienziati attiva che continua a dire, ok ti chiami Gennaro Romagnoli, sei uno psicologo cazzutissimo, ma no non hai i capelli, però sei anche... no ma ecco fa questo giochino la nostra narrazione, cerca di compensare, cerca di mostrarci i nostri aspetti e attraverso la meditazione noi possiamo imparare ad osservare questi pattern di giudizi e di racconti verso noi stessi, accettando anche magari le cinque cose negative che ci hanno detto i nostri amici proprio durante la meditazione e in questo modo piano piano migliorare il processo di esplorazione di noi stessi. E quindi io vorrei cambiare un po' questo termine da conosci te stesso o te stessa in esplora te stesso o te stessa. So che solo in pochi sarete arrivati alla fine di questo video e quindi se sei arrivata o arrivato fino a questo punto scrivi questo, lascia un commento con scritto esplora. Questo mi aiuterà a capire che sei arrivato fino a questo punto, arrivata fino a questo punto, mi aiuterà a capire anche che hai compreso questo concetto e aiuterà il sacro algoritmo di YouTube a farci vedere da più persone possibili. E anche un bel mi piace e se non ti sei iscritto e iscritta iscriviti perché più della metà delle persone che guardano questi video non sono iscritti al canale. Iscriviti a te non costa nulla, per noi invece è qualcosa di molto molto importante. Mi raccomando impariamo a esplorare noi stessi, non tanto a cercare di conoscerci, perché conoscerci ha quell'effetto un po' particolare di cristallizzare la nostra personalità, invece esplorare noi stessi ha l'effetto magico di renderci maggiormente dinamici e di farci scoprire che siamo un flusso, un processo come ogni cosa che ci circonda. Ci vediamo al prossimo video, ciao! Ciao, se ti interessa avere maggiore calma, concentrazione e motivazione vogliamo invitarti a partecipare a Mind Fitness, il nostro mini corso gratuito di 5 giorni. In Mind Fitness lavoreremo assieme sulle 5 aree del benessere mentale e della performance, stress, pensieri, emozioni, focus e motivazione. Per partecipare gratuitamente a Mind Fitness ti basta cliccare il link e ci vediamo all'interno del mini corso.